hey guys allora oggi provino alla rising star studio e non mi hanno riconosciuta non mi hanno nemmeno fatto entrare si amo per i capelli codice sconto link in bio e raga raga guarda con gli anonimi questi coglioni madonna a 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 da a a a a a a a e io per diventare famosa sono pronta a fare di tutto ma farei veramente di tutto fermo qui fermo qui a 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 non so fosse effimero la gente non voleva me la gente voleva quello che producevo il mio prodotto per cosa cazzo di sfigato basta buona fortuna a 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